Chiappe? Non è che c'è delle chiappe, vero? No, eh? Eh, vabbè. Forse? No, peccato, magari si buggerà con l'autore. Un giorno lo porteremo in live, sì. Cos'è la Springburst, questa? Ho visto qualcuno qua, infatti immaginavo fosse nascosta qua dietro. Spirito, ottimo, con lo spirito. Andato a su. Dovrei arrivarci, non credo riesco ad allontanarsi troppo. Uh, ho sbagliato io, sono stronzo. Aspetto il potere adesso. Ma questi sono i perdi giocati nel torneo, anche avevi detto che volevi provarli. No, non i perdi, gli addon. Ho detto gli addon. Però che non avesse cose, non è mai che non ce l'ha. E con il dolore procato non ho sentito nessuno urlare. Se ci fosse qualcuno qua dietro, sfortunatamente no. Sono già andato al save. Ok, holding W. Vai su? No. Ottimo. Adesso riusciamo a seguire di nuovo. Ho preso controllo del pallet. Uh, brava. Bonnie Bait che fa questa, mi baita tanto. Nice, ok. Mi baita tanto questa, si è che sa giocare bene. O se la rischia solo tanto e gli va bene, perché li rispetto. Lo spirito è molto difficile da usare, devi avere delle buone cuffie. Per usare bene nello spirito devi avere delle buone buone cuffie. Vado a pigliare sto coso, va? Fanculo. Dai, vando vai? Eh dai, eh. Facciamo sta cazzo di quest, così ce la arriviamo fuori ai coglioni. Comunque è veramente uno scam, che per fare queste quest devi letteralmente iniziare la partita, comunque. Vorrei non andare per lui, vorrei andare per quella ferita, ma non so dov'è. Immaginavo avessi agilità, potete swingare, ma non ero sicuro di riuscire a hittarlo per colpa di agilità. Ok. Tanto mi partono già, c'è quello lì, ok, che si è bloccato. Aspettiamo un attimo. Dovevo essere sicuro che non sta lì. Scusate se sto un po' in senso con lo spirito, ma devo davvero sentire bene i suoni quando uso il potere, quindi non posso neanche mettermi a parlare o non capisco cosa sta succedendo. Chi chiede tanta concentrazione lo spirito per essere giocato e tanto silenzio. No, che cazzo è successo, mamma mia. L'auto aim di sto gioco ogni tanto. Adesso sto facendo un save, immagino. Immaginavo, infatti. Va bene che lucchiamo. Non so gli addonfatti l'ospetto. Quelli che una volta erano fuori sono stati innerpati drasticamente. Con questi non mi ci trovano male, devo essere onesto. Dopo che l'hanno buffato, quello verde non è per niente male. Sopra. Uh, lo medium volt, buono. Ho sbagliato. Abbiamo un altro scurgio qua, anche se li abbiamo giocati tutti, tanto le mettono. Ormai, uh, vale l'altro. Ok, barbecue almeno mi fa vedere quale stanno facendo. Uso il potere anche solo per avvicinarmici prima. Tanto la ricarica abbastanza in fretta. Eh, cazzo. Hanno gridato per finire il gen. Comunque si sono presi due per hit. Contro lo spirito è rischioso. Non so di scoprenderla. Sarei gridato. Io ce l'ho, mi ci diverto ad usarlo. Poi chiede molto silenzio e non so quello. Sì, sì, assolutamente. Devi proprio stare attento ad avere cuffie di alto, a livello alto. Sentire bene bene. Ok, si sono resettati. Agilità. Andiamo per lui. Avevo sentito qua ansimare, ma aveva camminato dentro. Difficile seguire... Oh, lo smetto a strada. Difficile seguire con cui survi in questa mappa, perché se smettono di correre un attimo, possono prendere qualsiasi strada. Oppure corrono dritti e se ne fregano il cazzo. Sì, devi avere assolutamente sì. Devi avere surround, 6.1, come cacchio volete chiamarle. Surround minimo è necessario. Legione. A me non piace la legione. Però ho dei gusti vuol sempre. Eh, non ci sei mai. La trovo un po' noi, la legione è molto debole anche per questo. Scusa, ma qui c'è un modo per scendere decentemente? No, ok. Quella finestra è una god window, in pratica. Holding W proprio. Ok. Che chiede di piacere. Quello che preferisco di più è la piaga. Hit a run. Non è l'hit a run che non mi piace. È il fatto che è troppo debole. Perché hita e poi diventa un M1, capito? Ti ferisce ma non ti atterra. Il problema della piaga è questo. Della legione è questo per me. Ok, abbiamo tagliato un pochettino la strada. Niente. The Dard, ok. Ecco perché non lo rispettavo. Buon The Dard però. C'è da dire. Sbagliato. Puoi passare il dito sul perco. Funziona anche sul cellulare? Bah, adesso. Mi sa che non arrivo nessun uncino. Mi sa che non arrivo. No, forse il basement adesso ci arrivo. Anche se ho preso la strada un po' lunga dovrei comunque arrivarci. Di poco ma ci arrivo. Sarei PC, ok. No, la cellulare non dovrebbe funzionare. Scusa, mi manca... Ah, eccolo sopra l'ultimo gen. Fuck. Eccolo sopra è il più odioso da difendere. Ma sto gen qua? Ma come ora non c'è l'app che ti fa vedere i perk? Non ho messo l'app. Cioè intendi spettare l'app? Wait, what? Nice. Mi sono preso il demo e mi sono divertito tanto. Ci sta. Lo Twitch. Non l'ho attivata. Adesso guardo appena finisco questo game. Mi sembra strano perché se lui la vede... Vuol dire che c'è. Mi sa che off the record il tizio. Perché non gli vedo l'aura. Oppure era solo vicino. So se si montano l'assistamento. Volevo controllare. Ho sentito aprire il locker. Dovevo controllare. Ah, holding W proprio. Questa ce l'ha off the record perché non si sente. Guarda... Guarda va, ok. Ah, l'odio off the record. Veramente. Il fatto... Allora, fa troppe cose. Pure di S c'ha. Pure di S avrà anche dei darts. Come attento. Però non l'ho usato. Il nome va anche da dar. Non è un'anti... Un'anti cosa. Off the record fa veramente troppe cose, raga. Cioè, non ha senso. Non ha senso che ti dà endurance anti-reading build. E anche non fai il rumore. Davvero non ha senso che faccia tutte queste cose. Per 80 secondi. Beh, ha W fatto o W fatto? Abbiamo W fatto entrambi. Quale è un cazzo? Il prezzo è un alt state. Sì, però comunque tanto gli hook te li devi fare, capito? Speriamo poi. Quindi che il prezzo sia uno stage che comunque... Nel meno male è una cosa che ti fai sempre. Lo fai, capito? Ti sei perso nel trick e vanno, tranquilla. E questo è il fatto. Non è come... Dici... Non è come fire up che ti devi beccare di perdere tutti i generatori per non avere niente, capito? Cioè, pensa a fire up dove il costo è che ti completino i generatori e non guadagni nulla. Al contrario, essere uncinato hai tutto. Per due volte. werde... What? Cosa? Cosa? Grazie a tutti.